Cante la voce in salchina, in palma d'aria, Signore. Signo, la piaccia, la viola sempre e la cessione, Dio, la piaccia, la viola sempre e la cessione, Cante l'ospezza libera la gloria, Signore. Sei tu, mio Signore, la mia sorella noce, la mia fiducia, Signore, che la mia giudizia. Su di te mi approcciati dal vento d'avvero, dal seno di mia madre sei tu, mio sostegno. Cante l'ospezza libera la gloria, Signore. 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 Grazie a tutti. 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 esperienze attraverso il tuo volo, attraverso le tue mani, sei chiamata a motivare la missione del maestro e la missione del maestro è annunziare ad ogni uomo e ad ogni donna la tenerenza di Dio, per questo c'è Dio e Gesù di Dio, perché potessimo sperimentare la tenerenza del volo di Dio, la sua misericordia, la sua vicinanza, la sua possibilità. Devi ripetere la presenza di Gesù Cristo accanto ad ogni uomo e accanto ad ogni donna. Tutti devono trovare in te la stessa compassione del maestro che si commuoveva e gioiva davanti alle sofferenze di Dio. La tua vita, caro Bello Vincenzo, la riempie il popolo di Dio. La vita di un vento è felice, sei una vita riempita da volto, riempita da volto della sua volontà. Sei chiamata come Gesù Cristo. Abbinere il mistero pasquale sulla tua vita. Gesù non ti ha detto ripeti un gesto, ripeti una circola. Gesù Cristo ti ha detto vivi con me il tuo mistero pasquale, vivi la tua pasquale. Sei chiamata a diventare l'uomo del dono. Devi donare nuova cosa, devi donare la tua esistenza totalmente e completamente al Signore e alla sua vivazione che è la Chiesa. A te non mi interessano soldi. A te non mi interessano con l'impatto. La tua vita sarà felice soltanto se ogni giorno ognuno potrai dire il mio corpo spezzato per lui e il mio sangue pensato per lui. Sento il te per pregare per il tuo popolo. Il giorno della tua direzione è che ti è stato chiesto. Voi imporate la misericordia con noi per il popolo a te abitare. Come il profeta Jeremia, anche davanti alla solezza del cuore della gente, hai un modo per toccarlo il tuo cuore e vi abitare a a me intercessione. Sei preti per pregare per la tua gente. Ed è il primo servizio che puoi fare per il tuo popolo. Portate tutti con le mani alzate nel cuore e nel mondo e nel futuro. Sei preti perché su questo territorio a qui affidando possa displendere la bellezza della vita. E' libero e ardente incontro al Signore. Preghiamo. O Dio, che sei liberatore dei poveri. Vieni in conto le speranze di quando ti cercano con un cuore sincero. E d'ora a tutti i tuoi figli di esultarne lo spirito per la venuta del Salvatore. Per Cristo nostro Signore. Amo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.